In questi giorni nel dibattito politico sia italiano che europeo, invece di affrontare il problema del terrorismo pensando a come difendere i nostri cittadini, a garantire sicurezza alle nostre città, i grandi intellettuali di sinistra si stavano prodigati nel dire che gli attacchi a Parigi, gli attacchi all'Occidente non sono frutto dell'Islam, non hanno nulla a che fare con i musulmani, non hanno nulla a che fare con la religione. Questa è una bugia palese, è una bugia che rischia di diventare colpevole nell'affrontare e distruggere il terrorismo islamico. Purtroppo gli attacchi di Parigi sono parte dell'Islam, parte di un Islam fondamentalista ed estremista, ma che sono Islam. E dire che allora dobbiamo rivolgerci a un presunto Islam moderato è un'altra balla colossale. Non esiste un Islam moderato esattamente come non esiste un cristianesimo moderato. L'Islam in sé racchiude non soltanto la parte religiosa, ma anche la parte politica. Infatti le moschee non sono le nostre chiese, sono luoghi di ritrovo per una propaganda religioso-politica e dunque bisogna confrontarsi e affrontare l'Islam in un modo diverso rispetto a quanti vorrebbero, a quanti vorrebbero dirci che l'Islam è tutto buono. L'Islam non è tutto buono, nessun paese a maggioranza islamica ha firmato la carta dei diritti dell'uomo e allora se non guardiamo dalla giusta prospettiva il problema, rischiamo semplicemente di continuare con decine, centinaia, migliaia di marce della pace, ma non riusciremo mai a raggiungere l'obiettivo, ovvero quello di dare un futuro di certezza e di scurezza alla nostra gente.